Torna l'Arezzo Youth Music Festival, manifestazione di altissimo livello internazionale che propone l'interpretazione della grande musica classica da parte di giovani artisti di talento, tra loro anche Giovanni Andrea Zanon che fin dalle origini della manifestazione si è impegnato per portare ad Arezzo straordinari musicisti under 35, anche quest'anno direttore artistico della manifestazione. È un festival quindi per i giovani ma fatto dai giovani, Zanon ha 23 anni e si contorna di artisti al violoncello, al pianoforte che hanno più o meno la sua età, questo porta proprio la curiosità ed è per questo che noi l'abbiamo chiamato Arezzo Youth Music Festival in quel settore giovanile che poi viene affrontato preliminarmente con una serie di lezioni nelle quali si spiega loro che cosa ascolteranno, come lo devono ascoltare, perché la musica nel tentativo. Devo dire che finora ha riuscito di appassionarli alla musica classica. Quattro gli appuntamenti in programma al Teatro Petrarca dal 26 settembre al 15 ottobre. È bene ricordare che tra l'altro l'ingresso è gratuito per i minori di 26 anni, quindi anche da questo punto di vista è una facilitazione importante. È un festival in gran parte fatto da giovani perché da partire da Giovanni Zanon che sarà protagonista di tre concerti, il direttore artistico che mi sento di dire non ci mette solo la faccia, ci mette proprio il violino in prima persona, a partire dal primo appuntamento dove il protagonista è l'orchestra giovanile di Arezzo, quindi non solo i giovani talenti che vengono dai palcoscenici internazionali, ma si dà anche un palcoscenico ai giovani aretini che si possa misurare con questa rassegna. Per Arezzo infine un importante riconoscimento da parte del Ministero della Cultura. La stagione concertistica retina insieme allo Youth Music Festival costituiscono un pacchetto che noi abbiamo presentato al Ministero della Cultura e che ci ha ammesso per la prima volta nella storia di questa città al FUS, Fondo Unico Spettacolo. È un grande riconoscimento ma è anche un modo per entrare in un circuito che ci consentirà di avere anche finanziamenti importanti per le nostre attività di veicolazione e crescita della cultura musicale ad Arezzo.